Come potete vedere sicuramente dopo alcune segnalazioni che sono arrivate, dopo che le immagini siano diventate virali sul web, ecco l'elicottero delle forze dell'ordine che presidia le zone dello Sperone. E per tutta la risposta lo Sperone risponde con i fuochi d'artificio, fantastico, momento veramente trash, veramente straordinario. Ecco per tutta la risposta. Che vergogna, solo che vergogna, meritiamo l'estinzione.